I guaglioni di Via Irno utilizzavano un linguaggio in codice SMS promozionali per stimolare l'acquisto di droga decifrati durante le intercettazioni telefoniche. Lento cd d'amore per parlare di roina, veloce per la cocaina, per fumare quando si faceva riferimento al crack. Un'organizzazione che ha coinvolto tre donne impiegate al pari degli uomini in attività di confezionamento, spaccio e occultamento di stupefacente o denaro. L'operazione del comando provinciale dei carabinieri di Salerno, che oggi ha portato all'arresto di 23 persone, prevalentemente trentenni, si intreccia anche con la lite che prima di ferragosto terminò con un accoltellamento a Santa Teresa. Un'organizzazione ben strutturata che vedeva tra gli acquirenti giovani tra i 18 e i 30 anni che permetteva guadagni giornalieri fino a 1000 euro. Ma tutto erano, tranne che buoni, perché era un'organizzazione fitta, strutturata, con una serie di competenze specifiche al suo interno, dedita al traffico di sostanze stupefacenti. Parliamo di parecchi volumi di sostanze stupefacenti che, come abbiamo potuto appurare dalle indagini, faceva guadagnare, esentassi al giorno più o meno ai consociati tra i 500 e i euro, quindi parliamo di un fatturato annuo di circa un milione di euro, che da un lato va a alimentare l'economia illegale, da un altro canto produce degli effetti devastanti su una grossissima fetta di popolazione. Il range, il target che loro avevano si orientava su persone tra i 18 e i 30 anni e la tipologia di sostanze stupefacenti era assolutamente diversificata con dei danni che, immaginabile, provocassero queste sostanze a danno degli acquirenti. Il mercato dello spaccio si fosse riorganizzato durante il periodo del Covid, era chiaro, ci sono stati anche dei fermi, altri sequestri, anche in luoghi di pubblica utilità, ad esempio ad un distributore di benzina, in un supermercato, alle poste? È verissimo, diciamo che il mercato dello spaccio ha cambiato soltanto volto, ma non si è certo fermato. Ha avuto una reazione immediata alle difficoltà connesse con il Covid, ma ha trovato gli strumenti utili per poter continuare. Arrivare a creare una chat, una vera e propria organizzazione, si sentivano tranquilli a potersi muovere così? Sì, certo, si sentivano tranquilli perché utilizzavano i termini criptici che pensavano che gli investigatori non avrebbero compreso, ma chiaramente con il tempo e con i sequestri di conferma relative a quelle telefonate abbiamo compreso perfettamente. Questa trasmissione di messaggi continua prevedeva ovviamente l'utilizzo nel linguaggio convenzionale che però poi è stato fortunatamente decifrato dai nostri militari. Linguaggio convenzionale che parlava per esempio di lento o di cd d'amore quando si voleva parlare dell'eroina, di veloce o di cd da discoteca quando si parlava di cocaina, ovvero con un classico perfumare quando si faceva riferimento al crack che come tutti sappiamo è una sostanza stupefacente che viene assunta proprio con questa modalità. Si interseca anche con la lite che poi era sfociata in un accoltellamento nei pressi di Santa Teresa poco prima di Ferragosto? Tutte le nostre operazioni chiaramente prendono spunto al contrario del territorio, quindi è chiaro che l'osservazione attenta della fenomenologia criminale sul territorio salernitano è la nostra prima missione. Sicuramente questo è stato un nuovo tassello nella continua attenzione verso le dinamiche criminali e quindi nel fermare ogni possibile intemperanza.